Jeremy e Toco, un'amicizia senza confini nella foresta incantata. Nella foresta verde, dove gli alberi toccano il cielo, vive Jeremy il giaguaro, con la sua pelliccia maculata e occhi curiosi. Un giorno, Jeremy incontra Toco il tucano, dal becco colorato e il canto melodico, diverso da tutti gli animali della foresta. «Perché sei così diverso?» chiede Jeremy, osservando il becco arcobaleno di Toco. «Ogni creatura della foresta ha la sua unicità», risponde Toco. Mentre giocano, Jeremy pensa che un giaguaro come lui non potrà mai essere amico con un tucano. Sono due animali troppo differenti. Invece, piano piano, i due imparano insieme l'importanza della diversità. «Le nostre differenze rendono la vita più interessante», disse Toco, volando tra gli alberi giganti. Insieme, superano difficoltà, dimostrando che l'amicizia e il rispetto per le differenze possono trasformare il mondo in un posto migliore. La storia di Jeremy e Toco insegna che accogliere e celebrare le differenze arricchisce la vita di tutti, creando legami indissolubili. Ti è piaciuta la storia? Lascia un like, condividi! Ci vediamo alla prossima storia di Cuocca e i suoi amici!